...imponenti, tagliù, pantaloni leggermente oversize, tuniche di paiazze, leggings e shorts su morbidi t-shirts in seta, tutto decorato da inserti metallici e pizzo dettagli metal e drappeggi sartoriali, colori molto dark e con i nassi dorati ...imponenti, tagliù, pantaloni leggermente oversize, tuniche di paiazze, tuniche di paiazze ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.